Mi presti la tua famiglia, la mia è un po' in difficoltà, è il titolo della campagna di sensibilizzazione all'affido familiare programmata dall'ambito territoriale S4. L'iniziativa si colloca nel quadro delle attività e degli interventi del servizio adozione d'affido territoriale, istituito nell'ambito del piano di zona, al fine di garantire l'ambiente idoneo al minore in famiglia affidataria per un determinato periodo, allorché il contesto familiare d'origine attraversi momenti di particolare fragilità. La campagna di sensibilizzazione è stata articolata in varie fasi, di cui la prima è stata l'adesione al progetto nazionale Io Leggo Perché, attraverso cui è stato donato alle scuole primarie dei comuni il libro Un regalo dal bosco, favola che rende partecipi i bambini e le bambine dei valori dell'affido. Inoltre sarà realizzato un corso di formazione e di informazione che si terrà a Ponte Cagnano-Faiano, presso la sede del SAT in via Piemonte 6, con i seguenti appuntamenti settimanali, 15, 22 e 29 novembre, dalle ore 17 alle ore 19. Infine sarà promosso un evento culturale con testimonianze di esperienze in atto e la partecipazione di esperti.